ciao a tutti oggi prepareremo i tartufini al rum il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono biscotti secchi burro cacao amaro zucchero cioccolato fondente e aroma di rum diamo via la ricetta andiamo a polverizzare i nostri biscotti secchi mettiamoli nella locale andiamo ad azionare i bimbi per 10 secondi a velocità 7 per il momento mettiamo da parte il trito dei nostri biscotti senza lavare il boccale andiamo a tritare il nostro cioccolato per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo lo zucchero e il burro andiamo a cuocere il tutto per 3 minuti a 70 gradi a velocità 2 adesso andiamo ad aggiungere l'aroma di rum e i biscotti e andiamo ad amalgamare il tutto per 20 secondi a velocità 4 il nostro composto è quasi pronto andiamo a metterlo da parte in frigorifero per almeno mezz'ora per farlo raffreddare adesso andiamo a formare i nostri tartufini adesso andiamo a passarlo nel cacao dopo di che andremo a posizionarlo nei nostri pirottini tartufini al rum grazie e alla prossima ricetta